Manca pochissimo alla fine, è 43, cerca di attaccare l'Inter, una Veronica, però ferma tutto l'Inter, su una perra di Eriksen sembra portarsi a casa la semifinale di Supercoppa, no non di Supercoppa, di Coppa Italia, ancora attacca il Milan in questo lunghissimo recupero, il cross in mezzo, ancora! Finisce qua, vediamo che succede, chi fa lì, vediamo cosa fa, finisce qua, semifinale interista, la sbarca l'Inter su una perla di Cristiano Eriksen, su gol di Lukaku, Supergold di Lukaku, esultano intanto qua i giocatori, una grande rimonta, si fa vedere, il Milan è Zlatan dipendente, come la Juve Ronaldo dipendente, come il Napoli sta diventando Lozano e Insigne dipendente, tutte le squadre sono dipendenti, in ogni caso, partita orrenda, giocata molto bene da una parte e dall'altra, soprattutto del Milan nel primo tempo, però c'è stato un dominio negli ultimi minuti, si è andato fino al centesimo, io avevo pronosticato un tempo supplementare, sì con la vittoria dell'Inter, però non una vittoria ai tempi regolamentari, supponevo che saremmo andati ai tempi supplementari, però, Eriksen, la fa fine al 95esimo, Goldi, Zlatan Ibrahimovic vicia al 31esimo, invece al 71esimo, esattamente 40 minuti, se i calcoli non sono errati, dopo va a segno Romelu Lukaku, su calcio di rigore, spiazzato, Ciprian Tataruzanu, l'ex portiere di Olippi, clone e Fiorentina, non può farci niente in questo tiro, traversa Palo ed è dentro, fa 1-1, poi sappiamo tutti molto bene, c'è stato anche un grande dibattito tra Lukaku e Ibrahimovic, sappiamo soprattutto essere Zlatan, una testa molto molto calda, intanto qua ai microfoni c'è Niccolò Barella, che ha giocato anche lui un'ottima prestazione, non di certo la sua migliore, però uno dei migliori, invece il migliore forse dell'Inter è Kolarov, visto che si è preso grandi responsabilità in questo match, è un po' egoista, magari a tirare sempre, anche da molto lontano, però sappiamo le sue grandi abilità da tiratore, tra virgolette, di punizioni. Milan, che è veramente Ibrahimovic dipendente, esulta l'Inter che affronterà la vincente tra Juventus e Spal, vediamo se saranno i bianconeri, oppure tra virgolette gli sfavoriti della Spal, a trionfare e a sfidare l'Inter. Un match che veramente al primo tempo è stato molto divertente, il secondo invece è stato divertentissimo, anche a senso unico, con 10 minuti di recupero che io non avevo mai visto, 10 minuti di recupero in una partita. Molto bene l'Inter, il Milan invece così e così si è visto solo per la prima parte della gara. In ogni caso noi ci vediamo probabilmente domani con bombe di mercato, un saluto e ci vediamo. Ciao!